Buongiorno ragazzone e ragazzuole, buone vacanze, visto che oggi è l'8 di dicembre. Torno con i video scelti da voi e siccome me lo avete chiesto in tantissimi, ho deciso finalmente di farvi il video delle saghe familiari. Il formato è sempre quello dei libri reperibili, ovviamente non troppo mattoni, anche se questi un pochino più mattoni del solito sono, perché siamo in inverno, per cui non siamo più in estate, dove vi consigliavo libri un pochino più leggeri da leggere sotto l'ombrellone, ma qui proprio abbiamo voglia di mattonazzi da leggere davanti al caminetto con la famosa copertina dell'abbruttimento. Ciao Miki, tu che hai inventato questo termine, meriti di essere citata. Per cui iniziamo. Saghe familiari abbracciano tantissimi generi, perché la saga familiare possiamo trovarla in più di un genere, non per forza magari nel genere drammone romantico, no? Per cui ho deciso di andarne a coccare uno per genere, beccare anche delle famiglie un pochino un po' particolari, perché ho detto non andiamo sempre a beccare la solita famiglia, in cui c'è il padre che è innamorato della madre, c'è il figlio che è innamorato di quell'altro, del cugino del nipote, ho detto spaziamo un attimino, facciamo anche la famiglia un pochino sui generi, no? Per cui mi sono messa a sbirciare, ho pensato su un attimo e ci ho lavorato un attimo. La prima però che vi presento di saga familiare è proprio il classico della saga familiare, cioè quel romanzo che se non vi siete studiati a scuola per forza una volta nella vita non l'avete incontrato, so che la gente, i lettori si dividono un po' in due categorie su questo, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia completamente, c'è chi piange alla morte dei personaggi, c'è chi invece dice guarda sei un cretino te lo sei anche meritato, tutto proprio così, tutta la vita. Il romanzo di cui sto parlando, forse non l'avete capito, forse sì, forse no, non lo so, però è un classico ed è questo, Cime Tempestose di Emily Bronti. Io l'ho lessi anni, anni, anni fa, l'ho riletto più di una volta, me lo diede da leggere, mi ricordo mia sorella, mi disse no, non puoi capire, è bellissimo, leggilo, ti appassionerai tantissimo alle varie vicende di tutti i personaggi, ed effettivamente per me Cime Tempestose è uno di quei romanzi da leggere e rileggere. Cime Tempestose è ambientato, tra l'altro, in Inghilterra, per cui chiaramente non puoi non appassionarti perché sei ambientato in Inghilterra e tu sei un amante dell'Inghilterra, devi assolutamente leggerlo, ed è un romanzo che, a differenza di quello che ci mostrano nelle varie pellicole tratte appunto dal romanzo, un romanzo in generazione, una saga familiare, perché in realtà non c'è soltanto la storia dei due protagonisti che di solito vediamo, che è Heathcliff e Catherine, ma ci sono anche i figli, i figli e i nipoti, per cui in realtà per me è una saga familiare, perché già abbraccia due generazioni e comunque vi parla della storia di una famiglia e io la vado a considerare saga familiare. È ambientata, come dicevo, in Inghilterra, adesso era nello Yorkshire, forse, se non mi ricordo male, però non vorrei dire una stupidata, nella brughiera, comunque, inglesi, nella campagna inglese, è una storia d'amore, è una storia di vendetta, è una storia di intrighi, di gente che si ama e che si odia, e per questo che vi dicevo, non tutti amano questo romanzo, tanti odiano i due personaggi principali che si inseguono e si amano e si odiano e litigano, poi scoprono di essere innamorati pazzi, però non vogliono far vedere che sono innamorati. Per quanto mi riguarda è un capolavoro, è un capolavoro narrativo perché Emily Bronte ci fa entrare nella testa dei personaggi, ci fa capire quali sono le ragioni che li spingono a respingersi, per quanto riguarda appunto Catherine con Heathcliff e Heathcliff con Catherine, il fatto che lui la ami violentemente, ma proprio questo amore lo porterà quasi a distruggerla e via dicendo, insomma è un romanzone, è un romanzone che si è adatta benissimo tra l'altro a questo periodo, da leggere appunto davanti al caminetto, da piangerselo proprio tranquillamente, con tutti i fazzoletti di fianco, da amare, da odiare in alcuni casi, perché in alcuni casi vi arrabbierete tantissimo, per cui questo è sicuramente un romanzo che merita, è di questa categoria assolutamente, non so se è uno dei pionieri, però adesso ci sto pensando cos'è che hanno scritto di saghe familiari prima di questo, però sinceramente in questo preciso istante non mi viene in mente, per cui chiamiamolo uno delle prime forse saghe familiari che ci sono mai state scritte. Vi ricordate quando vi ho detto all'inizio, sapete quelle storie che lui ama lei però non si possono amare, poi nasce il figlio però lui non sa che è il figlio suo di quell'altro, e vi dicendo ecco c'è un romanzo che abbraccia pienamente tutte queste caratteristiche della classica saga familiare, è un romanzo iper famoso, è un romanzo che avete sentito nominare 8 miliardi di volte, anche perché ci hanno tratto una famosissima serie televisiva, che se voi non avete visto perché siete giovani, l'hanno vista sicuramente i vostri genitori e i vostri nonni, è un romanzo che tutti conoscono ma pochi in realtà hanno letto e tanti per me erroneamente pensano che sia soltanto una storia d'amore, quando in realtà è molto di più di quello, io per prima mi ricordo quando decisi di leggerlo pensai, sarà la classica storiaccia d'amore tipo Harmony, mi romperò le balle tutto il volume e invece no, e invece no perché Uccelli di rovo di Colin McAuliffe è veramente un romanzo bellissimo, perché come vi dicevo non è soltanto una storia d'amore, è ambientato in Australia e è proprio la storia di questa famiglia di cui fa parte poi Maggie, che si può dire è praticamente poi il personaggio principale di tutta la vicenda, e mi si narra proprio da quando lei è piccolina, di tutta però la sua famiglia, non soltanto di lei, del fratello, della sorella, dei suoi genitori, fino appunto alla fine della sua vita, fino a questo suo amore tormentatissimo, che ha con questo prete, tutto e tanto lo sappiamo tutti, che padre Ralf ormai è diventato come dire, un modo per dire il prete figo no, cioè quando dite c'ho il padre Ralf in chiesa vuol dire che c'avete il prete che assomiglia un po' a Richard Chamberlain no, tanto mi sembra stanno che ancora abbia fatto un remake di uccelli di rovo però non volevo dirlo, perché adesso magari l'ho detto e capiterà, che è proprio uno di quelle storione familiari no, per cui ci trovate veramente di tutto, i tradimenti e la guerra, è questa che è innamorata ovviamente del padre Ralf, però non possono chiaramente coronare il loro amore, perché lui ovviamente è un prete, lui che però è un prete ma non vuole rinunciare al fatto di essere prete, perché chiaramente ha dei vantaggi, per cui lui un po' lo odierete magari a un certo punto, lei che fa un po' la preziosa, però dopo lo ama follemente, lui che capisce di aver cannato poi tutta la sua vita, perché lui Maggie l'amava con tutto il cuore, e il marito di Maggie, che lei praticamente ci si mette insieme per far dispetto a quell'altro, poi si amano, si odiano, i figli che nascono, padre Ralf non sa di avere dei figli, insomma è una storione, ah poi ci sono i fratelli chiaramente di Maggie, perché vi si racconta anche tutta la vicenda dei fratelli di Maggie, che anche quella sono interessanti, perché c'è quello che va in galera, insomma è veramente gigantesco questo romanzo, adesso vi faccio vedere, non sembra ma sicuro è scritto Mignon, per cui veramente c'è di tutto e di più in questo libro, è un libro che penso che riuscite a trovare abbastanza facilmente, è diviso tra l'altro ogni capitolo per anni, questo per dire, e praticamente ogni parte è dedicata ad un personaggio in particolare, tipo Ralf, tipo adesso Luke non mi ricordo se era il fratello di lei, o non mi ricordo se c'era anche un fratello di padre Ralf, però per dire comunque ci sono tantissimi personaggi al di là appunto di Maggie e di Ralf stessi, per cui scavallate, fate finta che non ci sia soltanto la storia di questa, che è innamorata del prete, andate volte perché è veramente un romanzo che merita, poi se siete appassionati di quei romanzi alla, che ne so, Peyton Place per dire, per dirne uno a caso che piace, che è bello sanguigno come questo, questo qui non potete proprio perdervelo. Il prossimo che vi cito di saga familiare, ma questa è proprio bomba, perché anche questa, tutti hanno visto il film, ma nessuno si è andato a leggere il libro, perché esiste anche un libro, comunque pochi magari sono andati a leggersi il libro. In questo caso vi parlo, adesso non guardate la mia edizione che è un po' vecchia, del padrino di Mario Puzzo. Il padrino di Mario Puzzo è bello come il film, è uno di quei libri che non vi dico, voi non dite è più bello del film, o è più bello il film del libro che capita di rado, ma qualche volta capita. È proprio uno di quei casi in cui dite, guardate, non so scegliere, perché il libro e il film sono belli uguali. Non che se voi leggete il libro dite, cacchio ma è uguale al film, cosa mi sono messa dietro a leggere il libro? No, perché in realtà c'è molto di più, in realtà, cioè ci sono più storie comunque all'interno del romanzo rispetto a quello che è il film. Chiaramente la storia del film la conosciamo tutti, cioè vi si parla dell'ascesa del film, figlio di questo boss della malavita, Don Vito Corleone, suo figlio appunto Michael Corleone, però al di là della storia comunque di Michael Corleone, anche qui come vi dicevo, è una saga familiare, perché vi si racconta di tutta la sua famiglia, addirittura rispetto al film, si approfondisce molto di più la storia dei fratelli e delle sorelle comunque di Michael, cosa che nel film è sì, soltanto alcune in particolare, tipo ci fanno vedere Sonny, ci fanno vedere un po' Tomégan, ci fanno vedere Connie, ma sono tutte comunque storie chiaramente in funzione di Michael, ovviamente quello è un film, per cui non puoi raccontare tutto, ma ti devi concentrare su un personaggio in particolare, questo è un romanzo per cui puoi parlare un po' di tutti, e anche qui appunto come vi dicevo, è una cosa molto interessante, perché va a approfondire quei personaggi, che magari nel film ci piacevano, però non abbiamo visto troppo, proprio perché in realtà il protagonista del film è appunto Michael Corleone Al Pacino. E' interessante perché potete andare a scoprire, sono alcune scene che sono già molto cinematografiche all'interno del romanzo, per cui voi capite che effettivamente Francis Ford Coppola non ha fatto tutta questa gran fatica ad adattare comunque il romanzo stesso. E' bello perché andate a scoprire delle cose in più rispetto al film, se non avete visto il film, ragazzi se non avete visto il film non dovete stare qui, perché il film Il Padrino è uno dei miei film preferiti in assoluto, ed è bellissimo. Io questo mi ricordo l'ho lesso in funzione della tesi, perché vabbè chiaramente parlando del padrino in tesi non potevo non leggere il romanzo, anche perché ogni tanto ho cercato di fare un mezzo paragone, però non era quello lo scopo della tesi, però ogni tanto magari città del romanzo comunque era carino, era interessante. E' bello perché è finito il romanzo, chiaramente andate subito e immediatamente a rivedervi il film, per cui è un'occasione poi per rivedersi per tipo la millesima volta Il Padrino, che è sempre un film che è un piacere da vedere, che durerà anche tanto ma scorre via perché è stupendo. Per cui questo se riuscite a recuperarlo io ve lo consiglio tantissimo, anche perché oltre ad essere una saga familiare, è una saga di una famiglia del crimine, ed è interessante perché vi si racconta chiaramente la storia dal loro punto di vista, e questa è una cosa bellissima. e sì, anche qui chiaramente ci sono omicidi, matrimoni, morti e ammazzati, però è bello perché è tutta appunto una famiglia che vi si racconta, ed è un po' magari se vogliamo una saga familiare un pochino diversa magari dalle solite saghe familiari, come appunto magari è più Cieli di Robo, che fa un pochino più il, come dire, da esempio di saga familiare. Il prossimo è un libro mica tanto conosciuto perché questi tre più o meno si conoscono, questo qui invece è un pochino meno. Io l'avevo trovato per caso forse a Castelvetro quando ancora c'era la libreria, esatto, quando poi me l'hanno chiusa meno male perché sennò praticamente la mandavo avanti, io quella libreria lì, cioè me l'hanno chiusa meno male mica tanto. Ho pianto, sono sentita male. Ancora adesso quando dentro al Bennett, che è il centro commerciale che c'è qua appunto da me a Castelvetro, vedo tipo che chiude un negozio e con la scritta stiamo arrivando con un nuovo negozio, io ancora prego che aprano una libreria, però non è successo. Per adesso non succede, sono tanti anni comunque che ho chiuso la Giunti c'era, e questo lo recuperai in Giunti perché costava la bellezza di 4,90 euro. Mi serviva un libro perché stavo andando in università, quando andavo in università il giorno dopo e dovevo fare il viaggio in treno, e ho detto no, no, mi serve un libro, mi serve un libro, come se non avessi avuto libri, però fa niente. E trovai questo, che è Chiedi perdono di Mary MacDonald. Questo è il primo libro che ha scritto Mary MacDonald. Io ne ho letto un altro che è un testo teatrale, e ho chiesto su Bookmock un altro che ha scritto, che è un volumone gigantesco che si chiama Come vola il corvo, se non mi ricordo male, che non ho mai letto, ma mi ha sempre incuriosito. Questa è una sagona familiare di quelle proprio gigantesche, è ambientata verso il finire dell'Ottocento, abbraccia più o meno, se non mi ricordo male, una trentina d'anni. Voi fate conto che questo l'ho letto, non vi dico una decina di anni fa, però nel 2005, una decina di anni fa, esatto. Per cui sì, una decina di anni fa, per cui vado molto a memoria. Come vi dicevo, è proprio uno di quei romanzoni epici, perché parte dal matrimonio di queste due persone, è ambientato tra l'altro in Canada, per cui è una cosa un pochino particolare rispetto al solito. Il padrino in America, come dicevo, in Inghilterra, invece ci mette in pezzose, e lucele di rova in Australia. Questo invece è ambientato in Canada, sulle coste del Canada, se non mi ricordo male, perché il protagonista maschile è un pescatore, si sposa con questa ragazzina di appena 13 anni, si sposano innamoratissimi, e hanno questa serie di figli. Per cui vi si racconta, oltre alla loro storia di genitori, anche poi la storia dei figli, e va ad abbracciare chiaramente un periodo storico abbastanza importante e denso di eventi, la prima guerra mondiale, l'età del proibizionismo, e non mi ricordo se arriva fino alla seconda guerra mondiale, o si ferma un pochino prima. Comunque è molto interessante, perché appunto questo è un altro classico delle saghe familiari, in cui ne succedono chiaramente donne, per cui il padre che è innamoratissimo, dopo però chiaramente all'interno della famiglia ci sono dei segreti, i figli che si ribellano alla famiglia, e scappano, non si capisce che cosa è successo, e questa madre che cerca di tenere unita la famiglia, e poi come dicevo appunto i figli che se ne vanno, che cercano un'altra vita, poi ovviamente incrociano la loro vita con tutti gli avvenimenti storici del periodo, perché non mi ricordo se era una delle figlie più piccole che scappa a New York, per cui si incrocia poi con quella che è l'età del proibizionismo a New York, e l'età del jazz, gli anni venti, insomma è una storia molto interessante, perché parte tutto in realtà in questa zona del Canada, semi disabitate, per cui vi dà proprio l'idea del silenzio, della quiete, però della tempesta che sta covando sotto, perché chiaramente essendo una zona costiera, vi dà un po' l'idea che la storia anche lì, ci sia questi periodi di calma piatta, e poi invece la tempesta che va a sbattere contro le coste, per cui succedono questi avvenimenti un pochino bomba, vi dà l'idea un po' di quei romanzoni tipo la Charles Dickens, in cui voi arrivate a un certo punto e dite vabbè non succede niente, e poi bang, succede un po' l'avvenimento che sconvolge tutta la storia, e poi è come se prendesse delle altre fila, poi si va avanti ancora un po', e poi il drang è ancora un altro avvenimento del genere, è un po' sensazionalistica come storia, però sicuramente se siete appassionati di seghe familiari, lo sapete benissimo che questi avvenimenti sono un po' all'ordine del giorno, in questi tipi di romanzo, perché se no non avrebbe neanche senso scrivere una saga familiare, se non vuoi far succedere comunque tutta una serie di avvenimenti, un pochino ciccione, un pochino sconvolgenti, questo chiaramente è consigliatissimo, se siete amanti di questo genere, non credo si trovi più in questa edizione, perché è veramente vecchia, l'aveva stampato la Delphi, se non mi ricordo male, perché potreste trovarlo ancora nell'edizione Delphi, si trova molto spesso sulle bancarelle dell'usato, e o Fiere dei Libri e via dicendo, per cui nel caso fossimo andato a cercarlo in quelle zone lì, perché sicuramente lo recuperate, proprio anche in questa edizione, in tipo questa Super Pocket, per cui magari a 2-3 euro riuscite ad accaparrarvelo. Il prossimo è quello che vi dicevo, una famiglia un pochino sui generi, non è esattamente proprio una saga familiare, anche se vi si racconta di questi personaggi, da quando sono ragazzini, fino a quando sono adulti e figlia, però mi piaceva perché è una famiglia un pochino più atipica, e non volevo per forza raccontarvi sempre le solite storie di famiglie, ce n'erano altre, mi sono venuti in mente romanzi molto più famosi rispetto a questo, anche di uno scrittore americano molto famoso, che ama tantissimo raccontare saghe familiare, eventualmente poi ve lo cito sul fondo del video, e poi vi dico perché mi sono trattenuta dal citarvelo, in questo caso vi cito Michael Cunningham, Michael Cunningham è famodissimo per aver vinto Primo Pulitzer, per il romanzo Le Ore, da cui poi hanno tratto il film, quello famoso The Hours, con Mary St. Lee, Julian Moore e bla bla bla, prima di scrivere Le Ore, questo era il suo primo romanzo, che si chiama Una casa alla fine del mondo, in realtà esiste un film anche tratto da questo libro, però io non è che ve lo consiglio tantissimo, perché non mi aveva convinto tanto, perché sinceramente il libro è molto più bello rispetto al film, questo lo comprai anche questo secolo fa, nel 2003 addirittura, andiamo proprio indietro indietro indietro, a Roma, che era una Roma con mamma, papà e fratello, quando mio padre lavorava giù nei pressi di Roma, e è un romanzo veramente strano, ma bello, perché? Perché vi si racconta in una famiglia, come dicevo, atipica, già all'inizio del romanzo, vi si presentano praticamente questi due protagonisti, che hanno delle famiglie un pochino diverse, i tuoi protagonisti sono Jonathan e Bobby, vivono tutte e due in questo, come dire, in questa cittadina appunto a Cleveland, hanno una vita abbastanza normale, nonostante segnata da alcune tragedie, diventano molto amici, e diventano anche amanti, quando sono ragazzini, Cioè scoprono questa loro sessualità, amanti poi fino a un certo punto, perché in realtà non arrivano mai a fare chissà che cosa, poi cosa succede? Succede che Jonathan da adulto si trasferisce a New York, e chiaramente lì lui abbraccia pienamente questo suo essere omosessuale, mentre Bobby rimane sempre un pochino ragazzino dentro, proprio per via di alcune tragedie che gli sono capitate da ragazzino, finché a un certo punto non viene invitato da Jonathan a New York, e anche lì lui scopre un mondo completamente diverso, Jonathan che vive con questa donna, un po' hippie, un po' assurda, un po' strana, Jonathan che vorrebbe un figlio, e anche appunto lei, Claire, che vorrebbe un figlio, per cui praticamente decidono di fare un figlio insieme, e questo vi dicevo, saga familiare. Quello che succede, che è bellissimo, è che all'inizio del romanzo è Bobby quello che si intrufola nella famiglia di Jonathan, per cui c'è la mamma di Jonathan che quasi fa da mamma a Bobby stesso, mentre poi è Claire, quella che fa da madre a entrambi, che cerca un po' di tirarli su e fa un po' la mamma chioccia, anche se in realtà più o meno hanno tutti la stessa età. È un romanzo veramente bello, perché come vi dicevo, vi racconta la storia di una famiglia un po' atipica, e sono personaggi un po' diversi dal solito. Vi mostrano varie sfaccettature di quello che è il sentimento dell'amore. C'è Jonathan, che è quello che è più sicuro di sé, che abbraccia completamente comunque questa sua sessualità. C'è Claire, quella che è un po' assurda, che anche lei ha la ricerca perenne dell'amore, però sembra quasi che non voglia gettarsi, anche se dall'idea di essere una molto dura pare molto fragile. Poi c'è Bobby, Bobby che è questa anima candida, che lui vede proprio l'amore come questo sentimento, non so, quasi ultraterreno, come se fosse una cosa, sapete, tipo l'amore come concetto, non lo vede, come dire, espresso come amore fisico, per lui è proprio un sentimento universale, il concetto dell'amore che è completamente al di fuori di quello che è il concetto di amore al giorno d'oggi, comunque ai giorni in cui è ambientato questo romanzo. Chiaramente se è un romanzo ambientato, adesso non mi ricordo, se negli anni 80, comunque a cavallo tra gli anni 80 e 90, è presente anche il grande tema, ovviamente, dell'AIDS. Io ve lo consiglio tanto, anche se avete amato, quel film per la televisione meraviglioso che è The Normal Heart. Se invece non l'avete visto e leggete questo libro, poi andate a recuperare The Normal Heart, perché più o meno, se non mi ricordo male, era ambientato in quel periodo lì. È un romanzo particolare, è un po' strano, però comunque vi racconta comunque di una famiglia, come vi dicevo, atipica, non la solita famiglia, però è proprio questa la cosa che mi è piaciuta, cioè il fatto di tre persone che in realtà non hanno legami di sangue, però si sentono famiglia alla fine del romanzo e da quando si incontrano appunto fino alla fine del romanzo, ecco. L'ultima non ce l'ho qua fisicamente, lo so che questa cosa io non dovrei farlo, perché dovrei praticamente parlarvi soltanto di romanzi che si trovano poi fisicamente, però non ho resistito, perché ho visto il trailer che è uscito di tipo 20 secondi, grazie BBC per farci questi dispetti giganti, di Poldark. Poldark io ve l'ho tipo nominato non so quante volte, per cui io ho i PDF, se li volete basta che me li chiedete, sulla pagina Facebook, tramite mail, chiedetemi come volete, in qualche maniera ve li mando. Poldark è una saga familiare, io in realtà vi consiglierei di piantarli quasi alla fine del primo libro, non so se il secondo, proprio ve lo consiglio tantissimo, però è una saga familiare gigante, perché vi racconta non solo della storia del protagonista Ross Poldark, che torna appunto dalla guerra, adesso era ambientato, non mi ricordo se nella metà del 1700, comunque in quel periodo lì, è ambientato in Cornovaglia, per cui anche qui abbiamo queste brughiere, abbiamo questi mondi, al di là delle grandi città, abbiamo proprio la campagna inglese, è ambientato nella sua tenuta, che è Nampara, di Lors Poldark, lui torna, la trova a pezzi e decide di cercare di farla rifiorire, lui che ha un animo tormentato, perché la fidanzata gli ha preferito un cugino, perché niente lo davano per disperso in guerra, Ross, e lei si è sposata sbattendosene del fatto che magari lui un giorno sarebbe tornato, come effettivamente ha fatto, allora Ross, l'animo tormentato, il mette tutte le sue energie, tutta la sua rabbia, nel cercare di restaurare questa tenuta che è Nampara, il bello è che non vi si racconta solo la storia di Ross Poldark, ma vi si racconta anche la storia di tutti i personaggi che vivono nella tenuta di Nampara, soprattutto nel secondo volume della saga, quello dedicato ad Emelza, che, non vi dico chi è, stavo per dire, che è, mi stavo scivolando fuori, ma non ve lo dico, perché se non avete letto il primo volume, non voglio rovinarvelo, ma anche nella prima, comunque nel primo volume chiaramente vi si presenta il personaggio di Ross, per cui è un po' più dedicato a lui, ma vi assicuro c'è tanto anche degli altri personaggi, come per esempio la cugina Verity, no? Che è questa cugina di Ross, che, è la cugina di Ross di Elisabeth, non me lo ricordo, però sa di fatto che anche lei ha questo amore tormentato, per cui Ross cerca di mettersi in mezzo, insomma, abbraccia tutte e varie famiglie, questa è proprio una saga familiare gigantesca che a me piacerebbe tantissimo che venisse ristampata l'italiano, perché merita tantissimo di essere letta, per voi appassionati di seghe familiari proprio non può mancare, come vi dicevo, chiedetemi il pdf, perché ve lo spedisco, io ve la consiglio lo stesso, perché ho pensato, quanti di voi adesso non hanno un e-reader, visto che adesso gli e-reader praticamente vi li tirano dietro, non dico che ce l'hanno tutti, però ce l'avete in tantissimi, se siete forti lettori non potete non averlo, non perché, no, io amo i libri e non voglio il lettore e-book, e-book è riuscito appunto a recuperare questi romanzi che sennò sarebbe un casino da andare a recuperare, non mi ricordo se le vendono in inglese, ma penso di sì, per cui nel caso potete andarle a recuperare in inglese, io non li ho letti, non vi so dire come sia l'inglese, se sia facile o difficile, so che sono stati iscritti, in realtà anche se sono ambientati nel 1700, sono stati iscritti a cavallo tra gli anni 40 e 50 del 1900, per cui non penso sia un inglese particolarmente complesso, a me, io l'ho letto in italiano per cui proprio non ve lo so dire come possa essere e ve lo consiglio, perché questo è veramente proprio anche qui intrighi, amori, è questo che si lascia con questo, e poi gli omicidi, e questo deve andare in galera, bisogna salvarlo, è il padre che si ribella, che non vuole che la figlia vada a fare da serva in casa di Ross, e Ross capito prende a cazzotti questo, no, insomma, è proprio una di quelle cose esterminate gigantesche che vanno assolutamente lette, oltretutto l'anno prossimo a metà, o forse inizio dell'anno prossimo, non mi ricordo, la BBC manda in ordine alla miniserie, con Idan Turner, nei panni di Ross Poldark, per cui non potete non vederla proprio in, come dire, non mi viene la parola, perché appunto esce comunque la serie televisiva, io vi saluto, spero che questi consigli vi siano piaciuti, abbiate trovati interessanti, adesso vado a cercare di fare l'albero di Natale, fatemi sapere se avete altre saghe familiari che vi sono piaciute tantissimo, perché eventualmente poi le aggiungiamo, e niente, se avete qualche richiesta particolare per questi tipi di video, sia di film che di libri, vi dicendo basta mandarmi messaggi, e quant'altro, mi raccomando, scrivetele qua sotto, così io eventualmente valuto, cerco di capire come posso mettervele giù, e come consigliarvi il tra virgolette meglio, ma poi ovviamente sono sempre pareri personali, vi mando un bacio, e buone letture, buona giornata di vacanze, e ci stiamo presto, ciao ragazzi!